Si terrà martedì 4 agosto presso la saletta conferenza del comune di Cerignola nel Foggiano la conferenza stampa di presentazione di Notti Sacre in Puglia 2015, una serie di eventi che propongono musica e arte nelle sere d'estate. Giunto alla seconda edizione l'evento è organizzato dall'associazione di promozione sociale Federico II Eventi che gode del patrocinio della CEI e di numerose comunità della provincia di Foggia, tra cui anche Cerignola. Saranno presenti alla conferenza stampa il direttore dell'ufficio musica sacra, Monsignor Parisi, Giuliana Colucci, assessore alla cultura del comune di Cerignola e anche Cinzia Del Corral e Miguel Gomez, la Del Corral è la responsabile dell'associazione per Cerignola, mentre Miguel Gomez è il presidente della stessa.